Selvaggia la Lombardia, la regione più colpita dalla prima ondata, sembra ancora non aver compreso fino in fondo la lezione non i lombardi, ma coloro che devono organizzare la nuova resistenza alla seconda ondata. La resistenza mi sembra un'espressione molto molto pertinente. La medicina territoriale non è stata minimamente riorganizzata, non ci si è approvato neanche tra la prima e la seconda ondata. Voglio spezzare una lancia a favore dei medici di base, anche perché ho degli amici che fanno i medici di base e so quanto hanno sofferto in questi mesi, anche perché sono davvero quasi gli unici interlocutori. Nel senso che sono quelli che troviamo, che sappiamo dove andare a cercare, sono quelli che facevano le ricette, ti ricordi, affacciate alla finestra e passavano ai pazienti, sono quelli anche che sono morti in gran numero. Insomma, quindi mi sento di spezzare una lancia a loro favore anche perché non hanno avuto dispositivi, insomma, non hanno avuto neanche i protocolli, cioè non sanno neanche cosa prescrivere. Per cui, sai, si trovano in una situazione di totale autogestione e noi ci troviamo in una situazione di autogestione. Cioè, quando si parla di sanità privata in Lombardia, ormai siamo oltre il privato inteso come l'integrativo, cioè il privato nel senso del fai da te. Io ti ricordo che noi siamo partiti a febbraio-marzo che, scusate, non abbiamo tamponi perché non abbiamo reagenti. Poi finiamo la fase quella dura e a maggio ci dicono scusate ma se volete fare i tamponi adesso ve li pagate. Ti ricordi, Gallera, i tamponi privati, eccetera. Usciamo dall'estate e ci dicono, beh, aspetta, a ottobre, già ci dicono, no, scusate, il tracciamento non riusciamo più a farlo. A ottobre. Quindi praticamente a 15 giorni dall'inizio della seconda ondata. Poi ci vogliamo fare il vaccino antinfluenzale. Eh no, scusate, il vaccino antinfluenzale ci siamo scordati di ordinarlo e quindi non c'è, pagatevelo, è andato dai privati. Adesso ci dicono che i tamponi non ci sono più. Insomma, noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo un incubo senza fine, per cui ognuno si organizza come può. Io per dire compro anche dei tamponi, quelli che fai da te, quelli rapidi, dai cinesi che li hanno e che te li vendono a 1,50 euro perché l'alternativa, lo so che fa sorridere, però tu immagini l'alternativa è quella o di prenotarlo presso un privato e magari aspettare 15 giorni e comunque pagarlo 90 euro. Io 90 euro me li posso permettere, ma una famiglia con due, tre figli, quattro, che magari il cui padre, la cui madre fanno gli impiegati si possono permettere di spendere 400 euro di tamponi? Magari poi due, perché devi fare anche quello di controllo. Insomma, è davvero una situazione di ingestibilità e di difficoltà enorme. E poi...